bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video e sì non sono nella mia consueta sala non sono nel mio consueto studio perché stanno cambiando tante cose ragazzi ho già registrato una serie di video e poi vi renderò partecipi di questi grandi cambiamenti nelle prossime settimane ma è già da un po' che non riesco a fare video perché ho lo studio un po' smontato però oggi non poteva mancare il mio video ragazzi anche perché volevo salutarvi non so stare senza il canale la community e volevo un po' aggiornarvi su quelle che sono le mie operazioni nelle mie operatività relativamente al mercato cripto non parleremo oggi di bitcoin perché di quello ne parliamo lunedì ragazzi nel consueto video di aggiornamento di analisi ciclica posizione di bitcoin tutto il resto quello di cui parliamo oggi sono le mie cinque criptovalute che sto tenendo sotto i riflettori per questa fase perché ci sono delle cripto che stanno muovendosi abbastanza bene contro bitcoin e mi piace e mi piacciono alcune alcuni movimenti grafici che stanno facendo quindi ho deciso di tenerle a mente tenerle in considerazione per alcune operazioni di trading speculativo andiamo quindi a vedere quelle che sono queste cinque cripto guardiamole a livello grafico e poi ragazzi come sempre facciamo le nostre considerazioni prima di andare avanti però vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto lasciatemi i pollici pollici con i mi piace ragazzi perché mi date una mano con l'algo di youtube ecco la prima cripto che già ho davanti a me se metti gli occhiali così vedo meglio ragazzi FTT allora ragazzi FTT è la cripto è legata alla exchange FTX questa exchange ragazzi me ne ho parlato nell'ultimo video dove parlavo delle alternative a Binance per via della problematica che Binance aveva avuto relativa ai futures e alla operatività in leva finanziaria sta mettendo a posto la regolamentazione ancora però ci sono alcune delle limitazioni abbastanza rilevanti quindi vi avevo parlato di alcune alternative FTX faceva parte di una di queste alternative soprattutto se vi piace tradare tantissimi futures sulle più svariate criptovalute come vedete ce ne sono di diverso tipo FTX sicuramente un'alternativa valida anche per la leva finanziaria proprio per questo ragazzi l'ho messo in quel video vi lascio il link in descrizione se qualcuno di voi volesse utilizzarlo come sempre il link RF mi date anche una gran mano per continuare la mia attività su youtube e ragazzi allora questo grafico è abbastanza evidente guardate che tipologia di movimento di trend ha avuto questo token contro Bitcoin mi piace tantissimo guardare le cripto contro Bitcoin ragazzi mi regolo di più guardando questo tipo di operatività perché se una criptovaluta sale contro dollaro ma è debole contro Bitcoin preferisco tenere Bitcoin perché mi tengo l'originale perché mi devo tenere le copie non sto scherzando non è una copia però dico non ha molto senso tenersi una criptovaluta che performa peggio di Bitcoin se io ho Bitcoin mi tengo Bitcoin quindi in questo caso la mia scelta delle cripto di quello che vado a fare è sempre orientata al grafico e sempre con un occhio legato al grafico contro Bitcoin è impossibile quindi eliminare l'analisi grafica da questo tipo di attività perché la tipologia di progetto ovviamente non può essere confrontata con Bitcoin quindi per me è sempre fondamentale andare a guardare un grafico con un trend positivo contro BTC guardate che tipologia di trend ha avuto questa cripto contro Bitcoin 500% proprio da gennaio nel 2021 adesso è su un livello abbastanza rilevante perché perché ha fatto un doppio massimo ora in questo momento sta ritracciando questa è una candela settimanale quello che vedete qui è una media mobile a 26 settimane quindi la media mobile del ciclo semestrale quindi dei sei mesi e in questo caso ragazzi vedete questa doppio massimo che è stato disegnato abbastanza evidente allora se il mercato riuscirà quindi se FTT riuscirà a breccare questo livello contro Bitcoin diventa un bel buy perché può andare in price discovery quindi immaginiamo che se fa un break qui possiamo tentare ad esempio un buy perché magari va in price discovery e continua questo tipo di trend che sta delineando quindi facendo una cosa del genere potrebbe avere anche una ottima impennata di prezzo proprio perché il trend della cripto valuta in generale contro Bitcoin andrebbe in price discovery quindi continuerebbe la sua fase di alzista che ha avuto già comunque da luglio del 2019 sono veramente due anni quindi e due anni in trend di alzista contro Bitcoin ben venga questa cripto valuta è quella che è il trend più lineare e ricordatevi però come sempre ragazzi che io quando parlo di questi di questa operatività non parlo di operatività di lungo periodo ma questa è un'operatività di speculazione per qualche settimana un mesetto perché non è un'attività di lungo in quanto ragazzi le cripto sono molto pericolose in questione ragazzi scusate mi ha suonato hanno suonato come sempre per i pacchi allora andiamo a ragionare appunto su questa cosa come vi dicevo ragazzi sono operazioni speculative quindi io quello che faccio è operare in termini di trading metto stop loss perché c'è molta volatilità sulle cripto valute in generale le altcoin quindi da un momento all'altro possono anche cambiare moltissime cose ad esempio guardate qui nel mese di soltanto diciamo nel mese di maggio questa cripto ha fatto meno 40% in una settimana contro Bitcoin quindi so ragazzi questa cosa bisogna un po' capire quando andate a operare con queste cose non do mai consigli finanziari questa è la mia operatività ve la dico per dirvi appunto quello che faccio ma non sono consigli finanziari quindi mi raccomando fate invece le vostre analisi utilizzate queste analisi per imparare per apprendere perché per fare questo tipo di operatività dovete essere comunque estremamente formati non vi dimenticate seconda cripto che entra nella nostra top 5 è Matic ragazzi mi piace tantissimo Matic per il suo progetto però ha un grafico oserei dire ad ascensore quelli che non mi piacciono proprio per quanto riguarda l'operatività e proprio in questo caso io lo utilizzo a modo di speculazione pura allora questa è la prima settimana che questa cripto valuto ha dato un più 23 24 per cento di di app dalla minimo dalla zona diciamo di di basso che poi ha toccato tutte le cripto valute a maggio è la prima fase di reazione se questo tipo di trend dovesse continuare la cripto in questione potrebbe anche tentare di andare a ritoccare i percenti massimi che almeno in close sono qui ora la distanza fra questa zona e i percenti massimi è del 70 per cento ragazzi quindi capite bene che anche un buon rialzo del 20 30 per cento può essere estremamente appetibile per operazioni di natura speculativa e anche lo stop loss in questo caso che va posizionato al di sotto di questa media non è lontanissimo ok come vedete anzi vi faccio anche un po ridere come vedete in questo caso parliamo di 35 punti di stop quindi anche in questo caso ragazzi è abbastanza evidente come la speculazione la volatilità di queste cripto valute va tenuta anche in considerazione quando si va poi a operare a livello di trading per me questo tipo di di cripto entra come secondo posto per quanto riguarda la mia top five perché è estremamente volatile e mi piace appunto perché un eventuale fase di recupero delle altcoin potrebbe spingerla con una candela magari di un più 100% guardate qui che ha fatto qui ragazzi più 70 con una sola settimana quindi magari con una settimana si sposta qui e io vado poi in profitto quindi secondo posto matic terzo posto luna luna è molto simile a ftt a questa sua struttura di trend contro bitcoin veramente esemplare progetto interessante me lo chiedete a gran voce di fare un video da un po ragazzi quando torno dalle ferie quando mi sistema farò anche un po un approfondimento su questo progetto in questa fase estremamente complicato andare per me a gestire queste cose perché sono un po così vivo in mezzo la via insomma si dice un po da me in questo modo allora il break ancora una volta di questo livello di prezzo può essere estremamente rilevante perché al di sopra di questa fase potremmo avere una nuova zona di price discovery con un nuovo pump anche in questo caso come luna come matic ragazzi scusate estremamente rischioso questo tipo di token è pericolosissimo guardate cosa ha fatto alla maggio nella settimana di ribasso meno 66 per cento in una sola settimana contro bitcoin quindi ricordatevi assolutamente che questo tipo di token e soprattutto quelli che hanno una delle oscillazioni di questa portata ragazzi 1400 e passa per cento contro bitcoin di rialzo da gennaio 2021 ricordatevi che hanno una grandissima rischiosità quindi bisogna anche agire di money management e di trailing stop eccetera quindi qui va veramente gestita molto bene un eventuale break con dei buy dei dip leggeri e poi un eventuale trailing stop immediato da inserire a su questa coin che mi piace comunque tantissimo quarto posto interviene ada ragazzi perché di nuovo si è di porta vicini massimi storici contro bitcoin siamo proprio lì ancora una volta sta dimostrando grande forza una settimana più 42 per cento molto interessante il discorso che tra poco dovrebbero uscire anche gli smart contract di ada e quant'altro quindi insomma potrebbe in effetti beneficiare di questa sua fase positiva ricordo comunque che anche questa cripto valuta si è appoggiata sulla media mobile a 26 settimane per poi di fare questo fase di recupero interessantissima per me anche ad entra qui come vedete comunque ragazzi anche in questo caso abbiamo un trend non dico l'ascensore come le precedenti però quasi ragazzi perché comunque entrare con una settimana che ha più 40 gli aspetterei in ogni caso magari un break di questi massimi storici se dovesse farle oppure eventuali dip sulla media nuova quindi in questa zona qua per intenderci perché magari con un dip in questa zona potrei rischiare di meno con uno stop loss posizionato qui in basso quindi ad secondo me è entra nella top 5 quarto posto poi ultima ducissi in fondo e ax infinity che invece un token legato al gaming ragazzi quindi questo è l'unico che si differenzia rispetto agli altri che vi ho mostrato oggi sta facendo veramente molto molto bene mi piace tanto questo token è anche tutto quello che si sta sviluppando intorno al mondo gaming nft è tutto quello che riguarda anche la realtà virtuale che potrebbe essere un nuovo futuro business del mondo nei prossimi decenni assolutamente rilevante anche questo tipo di token se non che anche qui ragazzi guardate che balzo veramente mille quattrocento cinquanta per cento contro bitcoin in pochissimo tempo addirittura qui ragazzi quindi due mesi circa allora questo è sta facendo diciamo un grande una grande fase allora quali sono i livelli qui che potrebbero essere indirizzati come dei buy dei buy dei dip intorno a questa zona se nelle prossime settimane si va a riposare appunto questo token con uno stop loss al di sotto di questi livelli oppure eventualmente anche dei semplici buy già dalla prossima settimana con l'idea che la cripto in questione può andare a continuare con altre settimane verdi allora io mi sarei un po attento a dei buy in break su questa cripto perché ha avuto un trend ad ascensore quindi è vero che magari si perde un po il treno però guardate lì ragazzi magari aspetterei diciamo una zona in questo punto per poi eventualmente aspettare auspicare diciamo una fase di continuazione di questo trend per un po questa sicuramente la cripto più speculativa rispetto a quelle che vi ho fatto vedere oggi bene ragazzi allora siamo arrivati alla fine del video una domanda ve la faccio però a questo punto quali sono le cripto che secondo voi nelle prossime settimane a barra mesi potrebbero dare grandi soddisfazioni rispetto a bitcoin abbiamo visto questa ritrovata forza del re ce l'aspettavamo abbiamo fatto tutte le nostre analisi tutti i nostri compiti a casa e quant'altro ragazzi come sempre ad agosto succedono queste cose quando moltissimi sono in ferie non è un caso ma le cripto se avviene un'altra altis sono per esempio per settembre ottobre potrebbero essere molto molto ghiotte anche di più rispetto a bitcoin in questo caso magari da utilizzare appunto con operazioni di trading speculativo che può da possono darci maggiori risultati rispetto all'investimento secco su bitcoin quali sono le vostre preferite in questa fase ma da punto di vista speculativo non mi parlate di progetto di lunghissimo periodo non mi interessa in questo caso il video ve l'ho specificato proprio sulla speculazione vediamo di fare un po uno screening di quelle più speculative secondo voi nelle prossime settimane vediamo chi ci prende vediamo chi ci attecca come si suol dire vediamo quali sono le cripto interessanti e quali mi sono sfuggite anche a me va bene ragazzi buon ferragosto ovviamente ciao a tutti e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao